Peppi, se sapessi quanta gente si è venuta? Ma cos'è già? La roccia rossa! Tu dove stai? Prendete un po' per mezzo, pure in capire un po' che... che spesa! E poi viene tornata la cosa alla vita! Come ti trovi, Luca? Ti trovi bene? Ti trovi bene? E che piange a fare? Grazie!